Ehi Lisa, vieni alla festa stasera? A quale festa ti riferisci? Beh, la festa di Miriam. Dovrebbe essere davvero figo. Devo parlare con mio padre. Sono ancora agli arresti domiciliari. Devi assolutamente venire. Ci andiamo tutti. Ok, convincerò mio padre. Papà, posso farti una domanda? No, Lisa la maionese non è uno strumento. Non era questa la mia domanda. Ok, cosa vuoi sapere? C'è una festa stasera. Posso andare lì? No, sei agli arresti domiciliari. Ma la festa dovrebbe essere davvero fantastica. A me non importa. Resti a casa Lisa. Papà, oggi è la festa di Miriam. Posso andare lì? Sì, certo che puoi. Ehi, perché Samuel può andare alla festa e io no? Perché Samuel non è agli arresti domiciliari. Questo è ingiusto. Divertiti a casa Lisa. Siete entrambi stupidi. Mamma, papà è arrabbiato con me. Cosa ha fatto? Non mi lascia andare alla festa di Miriam. Samuel può andare. Sì, ma Samuel non è agli arresti domiciliari. Perché stai dalla sua parte? Non lo fai mai. Perché ha ragione. Vado nella mia stanza. Ehi, Sara. I miei genitori non mi lasciano andare alla festa. Hai davvero provato di tutto? Sì, non ho alcuna possibilità oggi. Quanto sarà bella la festa? Beh, dovrebbe essere la festa più bella dell'anno. Tutti sono invitati. Oh cavolo, e mi mancherà. Forse potresti scappare di soppiatto. È troppo rischioso. Poi ricevo gli arresti domiciliari per un anno intero. Ok, allora devi davvero restare a casa. Parlerò di nuovo con mio padre. Papà, posso chiederti un'altra cosa? Non puoi andare alla festa. Perché no? La festa si svolge solo una volta all'anno. Quante volte ancora? Sei agli arresti domiciliari. Ma ci andranno tutti tranne me. Spero che tu impari da esso. Posso andarci solo per due ore? Quale parte degli arresti domiciliari non hai capito? Quindi non c'è davvero niente che io possa fare? Voglio davvero andare a questa festa? Se è così, allora c'è una possibilità. Davvero? Cosa devo fare? Farò qualsiasi cosa. Potresti costruire una macchina del tempo. E poi viaggia indietro nel tempo. A un giorno in cui non sarai agli arresti domiciliari. Sei stupido. Ehi Samuel, ti va di guardare un film stasera? No, sei pazzo? Sono alla festa di Miriam stasera. Non vuoi stare qui con me? No, assolutamente no. È davvero noioso qui. Quindi mi lasci davvero sola qui? Scusa Lisa, ma non ho intenzione di perdermi la festa. È il tuo vestito per la festa di Samuel? Sì, che aspetto ho? Molto buono. Proprio come me negli anni Ottanta. Andavi anche alle feste? Sì, certo. Ero famoso per i miei fantastici passi di danza. Li vuoi vedere? Oh no grazie, magari dopo. È colpa tua. Potresti imparare qualcosa. Mi limiterò a salutare Lisa. Ce l'ho ancora addosso. Penso di ballare ancora meglio di allora. Vai alla festa adesso? Sì, me ne vado. Ok, divertiti lì. Ti manderò i video più tardi. Ok, ci vediamo dopo. Mi dispiace un po' per Lisa. La festa sarà fantastica. Ora devo andare. Altrimenti arriverò troppo tardi. Cosa faccio tutto il giorno adesso? Tutti sono alla festa tranne me. Forse qualcuno pubblicherà un video più tardi. Martin, cosa stai facendo lì? Sto solo ballando un po'. E perché lo stai facendo? Ce l'ho ancora addosso, vero? Ti prego, smettila. È imbarazzante. Ma non lo trovavi imbarazzante allora. Penso che ti sia davvero piaciuto. Per favore smettila adesso. I vicini ci vedono. Lasciali guardare. Forse possono imparare qualcosa. Anche Sara sarà alla festa. Oggi le dico che la amo. Spero che voglia stare con me. Forse mamma e papà vorrebbero fare qualcosa insieme. Possono essere noiosi. Ma non ho scelta. Forza Marie, unisciti a noi. È davvero divertente. No grazie. Da quando sei così noioso? Non sono noioso. Una volta eravate completamente diversi. Ti ricordi ancora il tuo soprannome? Sì. Me lo ricordo. Ti abbiamo chiamato il topo danzante. Non hai smesso di ballare. Erano tempi diversi. Dai, fammi vedere il topo danzante, Marie. Proprio come allora. Ok. Perché no? Sì, molto buono. Il topo danzante è tornato. Avevi ragione. Sono negli anni Ottanta. Oh, scordatelo. La festa deve essere qui. Ma dove sono gli altri? Ho davvero ragione? Sì, dovrebbe essere qui. Forse sono già tutti dentro. Salve. La festa di Miriam è qui? Sì, è qui. Sei nella lista degli invitati? Sì, credo di sì. Qual è il tuo nome? Sono Samuel Peters. Ok, puoi entrare. Divertiti alla festa. Sono così annoiata. Cosa devo fare tutto il giorno? Potrei studiare per il test della prossima settimana. Ah, bella battuta. Sara mi ha mandato un messaggio. Deve essere un video della festa. Mi sento come allora. Sì, anch'io. È stato il periodo più bello della nostra vita. Mi piacerebbe molto tornarci. Hai, la mia schiena. Va tutto bene, Martin? Ho un crampo. Ho bisogno di una breve pausa. Non credo che il mio corpo sia più lo stesso. Ok, sediamoci. Oi Samuel, finalmente sei arrivato. Ehi Sara, stai bene? Sì, ti stavo aspettando. Davvero? Sì, certo. Ma è un peccato che Lisa non possa essere lì. Sì, mi dispiace anche per lei. La festa è fantastica. Le ho appena mandato un video. Cavolo, la festa è ancora più bella di quanto pensassi. E sono seduto qui a casa. Adesso basta. Vado a questa festa. E so già come fare. Ti senti di nuovo meglio? Sì, ma era troppo per il mio corpo. Ero in grado di ballare per cinque ore senza interruzioni. È meglio riposare un po'. Ehi mamma, ehi papà. Sto già andando a dormire. Davvero? Ma sono solo le diciassette. La giornata è stata faticosa. Sono già stanco. Ok, riposati allora. Ti prego, non disturbarmi. Voglio dormire sonni tranquilli. Ok, va bene. Grazie, ci vediamo domani. Ora devo accendere la radio. Ho registrato me stesso. Sicuramente funziona. Ora posso cambiarmi i vestiti. L'outfit è perfetto. Devo solo andarmene da qui subito. Poi posso finalmente unirmi agli altri alla festa. Forza Samuel, siamo a una festa. Balliamo. Ok, quello che vuoi. Sei davvero bravo a ballare. Dove l'hai imparato? Ce l'ho nel sangue. Lisa si pentirà davvero di non essere qui. Sì, lo penso anch'io. Dai, mandale un altro video. Ok, buona idea. Ho ricevuto un altro video. Oh cavolo, la festa è fantastica. Devo arrivarci subito. Pensi che Lisa stia bene? Sì, perché? Di solito non va mai a dormire così presto. Su questo hai ragione. Potrebbe essere malata. Devo stare attento. Se mi beccano, resterò in punizione ancora più a lungo. Non posso farmi beccare in nessun caso. La finestra è lì dietro. Mi porta in giardino. Mamma e papà non mi hanno visto. Sta andando tutto secondo i piani. Tornerò qui tra qualche ora. Nessuno noterà niente. Hai ragione. Forse Lisa non si sente bene e non ci ha detto niente. Vedrò come sta. Lisa, stai bene? Siamo preoccupati per te. Ciao Lisa, mi senti? Da quando Lisa russa così forte? Sta davvero dormendo? Sì, è sicuramente Lisa. L'ho fatto. Sono fuori. Ora posso finalmente andare alla festa. Come sta Lisa? Dorme profondamente. Ma russa molto forte. Ok, allora sono rassicurato. Ero già preoccupata. Nessuno si aspetta che io venga. Saranno tutti sorpresi. Soprattutto Sara e Samuel. La festa deve essere qui. C'è anche la bici di Samuel. Vediamo se la festa è davvero così bella. Salve, c'è la festa di Miriam? Sì, e tu chi sei? Sono Lisa Peters. Lisa Peters dici? Sì, è vero. C'è qualche problema? Puoi entrare. Divertiti alla festa. Cosa facciamo adesso? Possiamo guardare un film. Ne hai voglia? Sì, perché no? Ok, vediamo cosa sta succedendo. L'hai sentito? Da dove viene quel suono? Forse proviene dalla TV. No, sembra che provenga dal piano di sopra. Forse Lisa si è risvegliata. Sì, può essere così. Ehi ragazzi. Che succede? Lisa, cosa stai facendo qui? Pensavo fossi agli arresti domiciliari. Lo sono. Ma sono scappato. Sei pazzo? Papà si arrabbierà. Samuel, non preoccuparti. Ho pensato a tutto. Papà non lo scoprirà mai. Ora divertiamoci. Il rumore proviene ancora dall'alto. Darò un'occhiata a quello. Il rumore proviene davvero dalla stanza di Lisa. Da quanto tempo è in grado di suonare la chitarra? Lisa, per favore, abbassa un po' il volume. Vogliamo guardare un film al piano di sotto. Ciao Lisa, mi senti? La musica è probabilmente troppo alta. Mi limiterò a entrare. Cosa sta succedendo qui? Dov'è Lisa? Neanche lei è in bagno. So dove si trova. È andata a questa festa. Se ne pentirà. Avevi ragione. La festa è fantastica. Sono davvero felice di essere qui. Va tutto bene con Lisa? Lisa non è qui? Cosa dove? È andata a questa festa. Ne sono sicuro. Forza Marie, rovineremo la festa. Non ci posso credere. Lisa ci ha mentito di nuovo. Se ne pentirà. La festa di Miriam è qui? Sì, quali sono i vostri nomi? Martin e Marie Peters. Non sei nella lista degli invitati. Stiamo entrandoli adesso. Scusa fratello, solo la lista degli ospiti. Ascoltami, Cheesecake. Stiamo entrandoli adesso. Oppure abbiamo un problema? Ok, divertiti alla festa. Ciao Lisa. Mamma, papà, cosa state facendo qui? Potremmo chiederti la stessa cosa. Sei agli arresti domiciliari. Dovevo andare alla festa. La musica non è affatto male. Che ne dici di un topo danzante? Ci divertiremo di nuovo? Certo, perché no? Quindi non sono più agli arresti domiciliari? Sì, i tuoi arresti domiciliari sono raddoppiati. Qual era il soprannome di Marie prima? A, regina danzante. B, topo danzante. C, Steppkat. Lascia un commento.